Enrico, Enrico, a dove puoi essere andato? Non ne ho idea. Non ti viene a metter nessuno? Un amico? Un uomo politico non ha amici. Io sono perfettamente consapevole delle conseguenze che si scateneranno a Roma. È proprio quello che voglio, voglio vedere questi stronzi che cosa faranno senza di me. In questo momento il paese non può consentirsi a una latitanza dell'opposizione. Forse una persona che ci potrebbe aiutare c'è. Giovanni, suo fratello, è uscito dal manicomio. Lo ritengono innocuo. Sei identico a lui. Io sono qui per far sì che domani non si dica i tempi erano oscuri perché loro hanno taciuto. Ma che cazzo di malattia ha avuto? Sembra un altro. E chi ti dice che io sia la stessa persona? Porto con me tutti gli uomini che ho matto nella mia vita. Neanche te l'ho dimenticato. Ci senti solo un respiro? Sei tu. Così dicono. Così ci senti solo un respiro?